Grazie a tutti. La parola al Preside per il suo saluto prima di iniziare i lavori. Da antichi trascorsi fu Vicepreside in facoltà molto a lungo, il Vicepreside che più a lungo di tutti ha esercitato questo ufficio. Poi naturalmente sono i gruppi colleghi, la professoressa Trapani, la professoressa Odigieri e tutti coloro che stanno partecipando, i relatori che hanno accettato l'invito, così come i partecipanti tutti. Grazie ancora per questa bella opportunità e buon lavoro. Grazie mille al nostro Preside. Vi chiederei per favore di chiudere i microfoni in maniera tale che non ci siano ritorni di voce. Grazie. Grazie a tutti. 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 Con il motu proprio Spiritus Domini, Papa Francesco ha approfondito, nella linea di un armonico sviluppo, il Magistero di Paolo VI, permettendo anche alle donne di avere accesso ai ministeri del lettorato e dell'accolitato, e ribadendo così la soggettualità liturgica di tutto il popolo di Dio, in forza dell'iniziazione cristiana. Come affermato dal Pontefice, il variare delle forme di esercizio dei ministeri non ordinati non è la semplice conseguenza sul piano sociologico del desiderio di adattarsi alla sensibilità o alle culture delle epoche e dei luoghi, ma è determinata dalla necessità di consentire a ciascuna chiesa locale particolare, in comunione con tutte le altre e avendo come centro di unità la chiesa che è in Roma, di vivere l'azione liturgica, il servizio ai poveri e l'annuncio al Vangelo nella fedeltà, al mandato del Signore Gesù Cristo. Il motu proprio, alla luce anche di Evangelio Gadium, vuole quindi essere uno stimolo a interrogarci con urgenza e ripensare i modi per vivere il Vangelo, non soltanto ridisegnando nuovi ministeri e figuri funzionali alla vita della comunità ecclesiale, ma soprattutto ponendo al centro dell'azione pastorale la sfida di una chiesa testimoniale, capace di superare l'artificiosa distinzione tra missioni ad intra e ad extra, uno stile ecclesiale che metta al centro la natura missionaria del Vangelo, impegnando tutta la Chiesa. Il popolo di Dio è infatti, per l'azione dello spirito in forza del sensus fidelium, soggetto attivo chiamato a evangelizzare. Il pomeriggio di oggi intende approfondire il motu proprio a partire da focus differenti. Monsignor Domenico Mogavero svilupperà le implicazioni di tale riforma sul versante del diritto canonico. La professoressa Valeria Trapani dal punto di vista liturgico pastorale e la giornalista Alessandra Turrisi ci offrirà la sua personale testimonianza. Non è chiaramente necessario fare una presentazione di Monsignor Mogavero, soltanto una piccolissima nota ha conseguito il dottorato in diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense, professore straordinario di diritto canonico presso la nostra facoltà e cultore di diritto canonico nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo. Direttore dell'Ufficio Nazionale della CEI per i problemi giuridici e stato anche sottosegretario della stessa CEI dal 2007 e vescovo della diocesi di Mazzara del Vallo. Grazie eccellenza per avere partecipato a questo nostro pomeriggio. Grazie a voi per l'invito e anche per questa opportunità di rientrare in facoltà non soltanto partecipe di alcuni eventi accademici, saluto giustamente il signor Preside che ha richiamato i miei otto anni di vicepresidenza, ma soprattutto per questo momento di riflessione su un documento pontificio che togliendo due termini dal testo latino del Cane 230 ha fatto indubbiamente una piccola rivoluzione. La mia riflessione ha tre punti. Una contestualizzazione ecclesiologica in cui riprendo alcuni degli elementi che sono stati adesso richiamati dalla professoressa Oliveri, un cenno sulla prospettiva sinodale della Chiesa e poi le implicanze canonistiche della lettera apostorica in forma di motu proprio, Spiritus Domini. Questo motu proprio completa la significativa innovazione ecclesiologica di Paolo VI con il motu proprio ricordato Ministeria Quedam del 15 agosto 72 che abolì appunto la tradizionale divisione dell'unica categoria di ordine sacro in ordini minori, ostiariato, lettorato, esorcistato e accolitato, io ai tempi li ricevetti tutti, e ordini maggiori su diaconato, diaconato e presbiterato. Lo stiarato fu abolito, il lettorato e l'accolitato rimasero, l'esorcistato fu riservato esclusivamente ai vescovi in forma ordinaria, abolito anche il su diaconato. I due ministeri di lettore e di accolito furono rinominati ministeri istituiti, con l'esclusione appunto dicevo dell'ostiariato definitivamente soppresso, e furono collocati all'interno della condizione laicale, tolta la riserva che li concepiva come gradi propedeutici di avvicinamento al presbiterato, pur rimanendo obbligatorio il loro conferimento ai candidati all'ordine presbiterale appunto. Permaneva tuttavia una connotazione prevalentemente liturgica di tali ministeri, e restava discriminante l'esclusione delle donne, tanto più incomprensibile e contraddittoria, in quanto era ammesso l'esercizio di fatto del ministero di lettore alle donne nella liturgia e nella catechesi, e anche quello di ministrante abbastanza similare, analogo, per certi versi un'analogia molto labile, al ministero di accolito. In ogni caso rimaneva nell'ombra il fondamento teologico di tali ministeri, e cioè Spiritus Domini, che determinati ministeri istituiti dalla Chiesa hanno per fondamento la comune condizione di battezzato e il sacerdozio regale ricevuto nel sacramento del battesimo. Cenni di contestualizzazione ecclesiologica, i tempi sono abbastanza distretti, e quindi non vado a città. Prospettiva sinodale. Il quadro ecclesiologico, che prende luce e vigore dal ministero del Vaticano II, si rafforza e viene letto nella prospettiva sinodale, alla quale si richiama insistentemente Papa Francesco, per il quale la sinodalità, nel discorso fatto in occasione della commemorazione del cinquantesimo anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi, il 17 ottobre 2015, per il quale la sinodalità è dimensione costitutiva della Chiesa. Il documento della Commissione Teologica Internazionale del 2 marzo 2018, la sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, afferma chiaramente La sinodalità in questo contesto ecclesiologico indica lo specifico modus vivendi et operandi della Chiesa Popolo di Dio, che manifesta e realizza in concreto il suo essere comunione nel camminare insieme, nel radunarsi in assemblea e nel partecipare attivamente di tutti i suoi membri alla sua missione evangelizzatrice. Il corollario teologico pastorale che ne consegue esprime l'essere soggetto di tutta la Chiesa e di tutti nella Chiesa, i credenti è sempre questo documento della Commissione Teologica i credenti sono siunodoi, compagni di cammino chiamati a essere soggetti attivi in quanto partecipi dell'unico sacerdozio di Cristo e destinatari dei diversi carismi elegiti dallo Spirito Santo in vista del bene comune numero 55. Di più la dinamica sinodale promuove la dignità battesimale e la corresponsabilità di tutti questo termine corresponsabilità e l'aggettivo corresponsabile sostituisce il termine collaborazione e collaboratori che era un po' il punto forte della ministerialità laicale precedente al Concilio o nell'immediato post-Concilio. La dinamica sinodale promuove la dignità battesimale e la corresponsabilità di tutti valorizza la presenza dei carismi diffusi dallo Spirito Santo nel popolo di Dio numero 72 ed evidenzia quanto sia perciò essenziale la partecipazione dei laici numero 73 alla missione della Chiesa e quanto sia di contro deprecabile qualsiasi espressione di una numero 73 mentalità clericale che rischia di tenerli ai margini della vita ecclesiale. Implicanze canonistiche le due dinamiche appena richiamate non sono il ricamino ornamentale per aggraziare il tema e renderlo appetibili all'ascoltatore rappresentano invece nella mia concezione del dato istituzionale l'elemento fondativo che qualifica e sostanzia la peculiarità del diritto canonico infatti volendo dar conto dell'evoluzione del paragrafo 1 del canone 230 del codice del diritto canonico che è quello interessato dal motu proprio Spiritus Domini questa innovazione e questa evoluzione terminologica e normativa può capirsi uscendo dal mero ambito esegetico e immergendo il dispositivo normativo nel bagno ecclesiologico e nella dinamica sinodale altrimenti parliamo di un aggiustamento puramente formale e non di una innovazione e di una modifica canonistica molto significativa e rivoluzionaria in certo senso il senso autentico della normativa canonica va perciò colto all'interno della ecclesiologia conciliare mi permetto richiamare qui la Costituzione Apostolica Sacra e Disciplina e Legge scola quale Giovanni Paolo II il 25 gennaio dell'83 promulgò il nuovo codice della Chiesa Latina scriveva il Papa lo strumento che è il codice corrisponde in pieno alla natura della Chiesa non lasciamoci impressionare molto da questa espressione che è molto forte e che poi nel seguito viene un po' ridimensionata specialmente come viene proposta dal Magistero del Concilio Vaticano II in genere e in particolar modo dalla sua dottrina ecclesiologica anzi in un certo senso questo nuovo codice potrebbe intendersi come un grande sforzo non sempre ben riuscito questo lo dico io di tradurre in linguaggio canonistico questa stessa dottrina cioè la ecclesiologia conciliare se poi è impossibile tradurre perfettamente in linguaggio canonistico l'immagine della Chiesa ecco la piccola la piccola frenata rispetto alla enunciazione iniziale se poi è impossibile tradurre perfettamente in linguaggio canonistico l'immagine della Chiesa tuttavia a questa immagine il codice deve sempre riferirsi come a esempio primario in cui lineamenti esso deve esprimere in se stesso per quanto è possibile per sua natura fin qui la citazione della Costituzione Apostolica va perciò inquadrato in questa trama il testo del canone 230 sul quale è intervenuto il modu proprio pontificio tale trama facilita la lettura e l'interpretazione del disposto canonistico in particolare della variante semantica introdotta nel paragrafo primo che non attinge solo l'ambito filologico ma spazia in altri territori della vita ecclesiale traghettandoli dal loro specifico spazio speculativo al vissuto delle persone e delle comunità il testo del canone 230 paragrafo 1 nella sua formulazione originaria del 1983 recitava così vi risparmio il testo latino lo leggo direttamente in italiano i laici di sesso maschile il latino diceva viri laici che abbiano l'età e le doti determinate con decreto dalla conferenza episcopale possono essere assunti stabilmente mediante il rito liturgico stabilito ai ministeri di lettori e di accoliti tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla rimunerazione da parte della chiesa questo è il testo del canone 230 paragrafo 1 il modo proprio di Papa Francesco mutila il canone della precisazione restrittiva e limitativa che precludeva alle donne l'accesso ai ministeri stabili di lettore e di accolito si trattava in effetti di una esclusione strumentale e per certi versi punitiva infatti il tenore dei paragrafi successivi il 2 e il 3 dello stesso canone denunciano chiaramente che si trattava di una disposizione frutto di un ingiustificato pregiudizio che aveva sacralizzato l'ambito liturgico facendolo monopolio di quanti erano insigniti del sacramento dell'ordine e derivando perciò da ciò l'esclusione delle donne equivoco assolutamente anacronistico ridimensionato dallo stesso codice nei paragrafi 2 e 3 dai quali si desume che non esiste una incapacità radicale all'esercizio di tali ministeri da parte delle donne pur se il paragrafo secondo non parla di ministeri bensì di funzioni sottigliezza terminologica che non risolve la questione ecclesiologica e sinodale in ogni caso l'innovazione codiciale è assai rilevante sotto diversi profili ma prima di elencarli ne elenco sei molto schematicamente metto in guardia da un equivoco che qualcuno potrebbe potrebbe tirar fuori e cioè che ci troviamo di fronte a una clericalizzazione delle donne con questa apertura al ministero istituito direttore di Eccolito che farebbe perdere la condizione laicale alle stesse io ritengo invece che al contrario siamo di fronte a una ridefinizione della ministerialità che diventa così una ministerialità diffusa e non selettiva o preclusiva vediamo questi profili che io ritengo rilevanti nel testo del modo proprio il primo riguarda l'assoluta parità di genere visto che questo è un argomento molto attuale assoluta parità di genere nel conferimento e nell'esercizio dei ministeri di lettori di lettore e di accolito il secondo profilo riguarda la desacralizzazione del sacramento dell'ordine sacro al cui ambito viene sottratto tutto ciò che ha diritto di cittadinanza ecclesiale perché fondato sulla grazia battesimale e sul sacerdozio regale dei fedeli laici tutti compresi e nessuno escluso in quest'ottica la presenza di donne accoliti o accolite questo è un discorso sempre sempre subiudice comunque la presenza di donne accoliti potrebbe ridimensionare il numero e il servizio dei ministri straordinari della comunione perché? perché ci sarebbe un indubbio guadagno qualitativo sia sul piano della formazione lo vedremo dopo sia sul piano della preparazione degli stessi e qui si aggancia appunto il terzo profilo che potrebbe essere soggetto a possibili rischi per mancata osservanza dei requisiti di legge sui quali la tentazione di fare sconti non è solo astratta infatti il canone fa riferimento a età e doti da determinarsi dalle conferenze episcopali e in Italia queste determinazioni ci sono e sono piuttosto chiare e dettagliate nella delibera della CEI numero 21 del 18 aprile 1985 due paragrafi di questa delibera il primo a norma del canone 230 paragrafo 1 del codice di diritto canonico possono essere assunti stabilmente ai ministeri lettori di accolito laici che abbiano di regola l'età minima di anni 25 paragrafo 2 le doti fondamentali richieste nei candidati che l'ordinario riconoscerà su attestazione del parroco e qui potrebbero venire fuori gli sconti sono maturità umana buona fama nella comunità cristiana pietà adeguata preparazione teologico-liturgica collaudata attitudine all'impegno pastorale disponibilità per il servizio nella diocesi come si può vedere non si tratta di poca cosa o di condizioni facilmente riscontrabili in chiunque si autocandidi per il ministero quarto profilo può essere individuato nel fatto che questa innovazione ecclesiologico-liturgico canonistica può dare un sensibile apporto verso l'ampliamento dell'orizzonte sinodale della chiesa attraverso una presenza istituzionalizzata delle donne finalmente affrancate dalla precarietà di funzioni esercitate in supplenza quinto segmento potrebbe essere rappresentato dall'avvio di una antropologia ecclesiale compiuta arricchita dall'apporto di una femminilità non più clandestina ma finalmente visibile con pieno diritto di cittadinanza da ultimo di questa innovazione normativa e chiudo se ne gioverà sicuramente la comunità ecclesiale come sottolinea l'incipit della lettera apostolica lo spirito del signore gesù sorgente perenne della vita della missione della chiesa distribuisce ai membri del popolo di dio i doni che permettono a ciascuno in modo diverso di contribuire all'edificazione della chiesa e all'annuncio del vangelo questi carismi chiamati ministero in quanto in quanto sono pubblicamente riconosciuti e istituiti dalla chiesa sono messi a disposizione della comunità e della sua missione in forma stabile grazie in sacra liturgia presso il pontificio istituto sant'anselmo è docente della nostra facoltà membro ordinario della pontificio accademica di teologia e soprattutto consultore della congregazione del culto divino e della disciplina dei sacramenti prego grazie io proverò dopo aver sentito parlare del mio ex professore di diritto canonico lo ricordiamo mi sono sentita di nuovo sui banchi mi è fatto ringiovanire di un po' di anni non mimo proverò a rileggere lo stesso documento in prospettiva liturgica liturgica e ecclesiologica allo stesso tempo quindi attenzione sicuramente alcuni contenuti verranno ripresi però ci sarà un cambiamento un cambiamento di prospettiva innanzitutto vorrei introdurre l'argomento con una precisazione una precisazione a mio avviso importante cioè vale la pena di ricordare che i ministeri di cui parla il motu proprio sono due ministeri che vanno esercitati sì nella liturgia ma il cui esercizio liturgico come già aveva accennato anche Monsignor Mogavero travalica l'ambito celebrativo perché questa precisazione? perché qualcuno quando è venuto fuori questo documento in maniera molto devo dire semplicistica ha detto beh dov'è la novità che cosa niente di nuovo sotto il sole in fondo queste ministerialità esistevano come ministerialità di fatto adesso si tratta soltanto di legittimarle non è soltanto così non è esattamente così perché esiste il lettorato di fatto per uomini e donne esiste un accolitato chiamiamolo così di fatto per quel che riguarda la dimensione celebrativa ma queste ministerialità vanno oltre ricordiamo che il lettore non è soltanto colui che proclama la liturgia della parola ma è anche colui che ha il compito di istruire nella preparazione a questo stesso ministero altri lettori ricordiamo che il compito del lettore è anche quello di essere annunciatore della parola e quindi il lettore è la figura più donna ad essere anche il catechista di una comunità parrocchiale questo Don Mimmo l'aveva anche accennato sottolineiamolo perché si tratta di una figura più complessa sono delle figure più complesse quindi il lettore è chiamato ci dice il rito di istituzione ad educare alla fede i fanciulli e gli adulti e anche gli accoliti gli accoliti non sono soltanto i ministri esteriali della comunione sarebbe una visione riduttiva l'accolito il ministero dell'accolito prevede un servizio che supera il momento celebrativo l'accolito collabora con il diacono ma insieme al diacono in virtù del comune amore verso l'eucaristia è chiamato ad amare il corpo mistico di Cristo e quindi è chiamato all'esercizio della carità alla cura degli ultimi alla cura dei deboli capite bene quindi che non è soltanto un discorso non si tratta solo di legittimare dei ministeri che nei fatti venivano svolti ma realmente di riconoscere l'attribuzione di queste due ministerialità anche alle donne ma poiché sono due ministerialità molto articolate il mio punto di partenza così come annunciato anche dalla professoressa Oliveri e come orientato nella riflessione di Monsignor Mogavero sarà quello di partire inevitabilmente dalla idea e dalla categoria di sacerdozio battesimale questa è stata la linea comune che abbiamo scelto anche come chiave interpretativa per poter provare a leggere meglio il fenomeno allora questa è un po' un'introduzione in che modo mi muoverò fondamento battesimale come punto di partenza per sviluppare la riflessione ma anche attenzione punto di arrivo sarà punto di arrivo della mia riflessione ma anche punto di svolta partenza arrivo e svolta questi tre termini proviamo a ricordarli perché ritorneranno nella relazione in questi pochi minuti in cui ci intratterremo io svilupperò la riflessione in tre punti vi annuncio un po' di così forse anche più discorsivo la modalità online non è sempre felice io non riesco a vedere tutti i miei interlocutori e questo per il mio modo di essere per esempio mi crea una difficoltà credo che anche per voi sia lo stesso allora proviamo a lavorare insieme su questi tre punti in un primo momento metterò fuoco il rapporto che intercorre tra ministero e carisma a mio avviso questa è proprio la chiave di svolta ma ve lo sto anticipando in un secondo momento in maniera proprio flash sono hanno dei punti flash ripercorrerò in maniera sintetica quei passaggi che a livello storico hanno portato ad una riforma delle ministerie liturgiche facendo attenzione al ruolo che le donne hanno avuto in questi passaggi di svolta Monsignor Nogavro ha fatto una buona ricostruzione molto attenta scientifica io sarò meno scientifica Don Mimmo cercherò di avere delle spigolature di tipo pastorale su questi dati storici che lei ha già ben presentato in ultimo terzo passaggio proporrò la mia visione del rapporto donne e ministeri liturgici lanciandovi anche delle provocazioni non avremo il tempo per il dibattito però mi auguro che questi incontri che l'Istituto Superiore di Scienze Religiosi starà promuovendo all'interno della facoltà teologica possano costituire uno spunto anche per sviluppare ulteriori riflessioni e confronti all'interno dell'Istituto il primo punto il rapporto tra ministero e carisma per inquadrare correttamente il tema dei ministeri alle donne io credo che non si debba partire da una questione di genere credo che partire da una questione di genere non sia la scelta migliore non sia la scelta migliore perché credo che anzitutto si debba collocare il tema della ministerialità nel più ampio contesto ecclesiale ecco farne una questione di genere secondo me riduce riduce di molto lo spessore della tematica lo spessore della problematica non possiamo prescindere dall'identità battesimale perché l'identità battesimale è un presupposto identitario allo svolgimento di qualunque ministero ecco non è la sessualità il presupposto identitario allo svolgimento del ministero ma è l'identità battesimale e allora dobbiamo interrogarci sul rapporto che intercorre tra ministero e carisma perché in virtù del battesimo avviene il dolore dello spirito santo e a mio avviso vi anticipo un po' la conclusione è proprio questo rapporto tra ministero e carisma che risolve il problema dell'identità di genere perché il rapporto tra ministero e carisma legittima qualunque ministero superando a dando oltre l'identità di genere non posso non far riferimento ad agentes numero 4 un paragrafo in cui si parla dell'azione dello spirito santo dispensatore di carismi dispensatore di ministeri attraverso i compiti della comunione della diaconia tutti sicuramente conosciamo questo documento da cui si evince che la struttura carismatica è fondamento di tutto nella chiesa e il tema della ministerialità risponde all'esigenza di valorizzare e riscoprire questa dimensione carismatica della chiesa cioè c'è una rispondenza stretta tra carisma e ministero e allora quando noi parliamo di laici forse non dovremmo parlare di laico come termine di distinzione ma dovremmo parlare piuttosto di battezzato come termine di uguaglianza non una chiesa di uomini non una chiesa di donne ma piuttosto una chiesa di uguali in cui l'uguaglianza tra tutti i cristiani è da intendersi come dottrina chiave per la costruzione della chiesa attenzione sembra un po' provocatoria perché noi sappiamo che il concilio insista anche sulla diversificazione ministeriale io sto partendo invece da un punto comune da una base comune e faccio riferimento mi piace fare riferimento ad uno studio che qualcuno potrebbe considerare forse un po' datato perché è uno studio che ha quasi 40 anni di Luigi Sartori che Monsignor Capra conosce bene perché lei l'editore del volume al cui interno c'è questo studio di Sartori uno dei atti dei primi convegni su laici e chierici donne e teologie che si svolse a Palermo quando ancora forse non era neppure facoltà teologica ma istituto teologico Sartori ricostruisce un po' il vocabolario paolino sulla ministerialità e che cosa dice osserva che ci sono tre termini per riferirsi ai ministeri e ognuno di questi tre termini badate bene fa riferimento ad una delle persone della Trinità ossia Paolo adopera il termine carisma il rapporto allo Spirito Santo sottolineando la gratuità del dono divino Paolo adopera il termine ministero il rapporto a Cristo che con la sua kenosi si fa serbo Paolo adopera il termine operazioni il rapporto al Padre noi ci soffermiamo su carisma e su ministero termini che nella lettura che Sartori fa della teologia paolina sono termini equivalenti carismaticità e ministerialità si equivalgono perché la ministerialità sottolinea la forma Cristi del carisma attenzio a questo passaggio importante la ministerialità nella Chiesa allora è il segno della sua carismaticità la ministerialità è segno della carismaticità e la carismaticità è un dato fondamentale nella Chiesa e questo ce lo dice il Consiglio Vaticano secondo e questo viene ripreso detto così semplicemente faccio riferimento al documento della CEI del 1977 vandalizzazione ministeri che riprende questa visione allora cosa significa che non dobbiamo sottolineare solo i carismi straordinari nella Chiesa ma tutti i carismi il cui fine è quello di sollecitare l'indole ministeriale nella Chiesa dunque piena rispondenza tra ministero e carisma in realtà però ciò che io voglio porre all'attenzione di oggi è proprio la difficoltà di attuare questa corrispondenza tra ministero e carisma quello tra ministero e carisma a me sembra un matrimonio non sempre per riuscito molti matrimoni pare che vanno avanti perché si convive si sta insieme però forse a volte si sta un po' stretti a volte non si interagisce bene ecco mi piace portarla su questo piano magari un po' che alleggerisce però per dare l'idea di un problema in atto secondo me della comunità ecclesiale perché? adesso torniamo a dirla un linguaggio un po' più scientifico perché struttura ministeriale e struttura carismatica guardate che non si corrispondono a fronte di questa meravigliosa teologia paolina in realtà non sempre c'è una corrispondenza perché? e già questo guardate che in termini canonistici l'ho anticipato in maniera abbastanza evidente la relazione non sia il mogavero perché? se è vero che ad ogni ministero corrisponde un carisma cioè che ogni ministero è il risultato di un carisma non è altrettanto vero il contrario cioè non necessariamente ogni carisma è un ministero non necessariamente ogni carisma che viene donato alla chiesa si traduce in un ministero perché? e il perché è semplice quanto problematico attenzione semplice quanto problematico perché mentre i carismi sono il dono nello spirito i ministeri sono nelle mani della chiesa che deve gestirli e di questo è prova l'esistenza di ministeri riservati soltanto agli uomini ecco che si va ad interrompere a spezzare quella corrispondenza che si va a rompere quel matrimonio tra ministero e carisma ecco perché dico matrimonio non sempre è ben riuscito perché ci troviamo di fronte alla presenza di carismi che non riescono a tradursi in ministeri la domanda allora è e diventa interessante capire come da presupposti conciliari inequivocabili il sacerdozio battesimale il sacerdozio comune l'uguaglianza la struttura carismatica come da tutto questo si arrivi all'attuale condizione di disparità della donna nell'attribuzione dei ministeri liturgici tanto da dover attendere il 2020 per avere la commissione di studio sul diaconato femminile mi fa piacere che qui tra di noi tra di noi ci sia la professoressa Serena Noceti che tanto ha scritto e studiato e pubblicato su questo tema e dobbiamo aspettare e abbiamo dovuto aspettare anche il 2021 per vedere attuato uno dei principi cardine della riforma con il riconoscimento dei ministeri istituiti di lettore accolito a tutti i battezzati indipendentemente dal genere capite che questo solleva una domanda la domanda mi traghetta velocemente al secondo punto che trattora in maniera veramente ipersintetica modo flash e cioè riforma liturgica e ministeri laicali come siamo arrivati a questo cito brevemente tre passaggi di tre pontefici Paolo VI Giovanni Paolo II e Papa Francesco tre passaggi per i quali mi renderò forse un po' antipatica visto che sono tre papi tutti e tre amatissimi ma io gli sto facendo un po' le pulci per capire come siamo arrivati a questo risultato Paolo VI il ministerio a Guedam già citato questo è il voto proprio scrive in un passaggio risalterà anche meglio la distinzione tra chierici e laici fra ciò che proprio è riservato ai chierici e ciò che può essere affidato ai laici distinzione attenti a questo passaggio di Paolo VI e poiché i ministeri abbiamo già detto prima questi ministeri elettorati accolitati sono derivanti dal sacramento dell'ordine non è strano che le donne ne siano state escluse in quel momento perché se si parla di distinzione e questi ministeri erano appena stati scorporati dal sacramento dell'ordine ancora forse odoravano troppo di sacerdozio ordinato e quindi inizialmente le donne ne sono state escluse ma se andiamo a guardare cosa scrive Giovanni Paolo II nella Christi Fidelis Laici siamo nel 1988 numero 23 è un'affermazione che a me ha creato qualche difficoltà mentre si ribadisce il radicamento battesimale di tutte le ministerialità allo stesso tempo leggiamo l'essenziale diversità del ministero dei pastori radicato nel sacramento dell'ordine rispetto agli altri ministeri ufficio e funzioni ecclesiali che sono radicati nel battesimo e nella confermazione cioè ancora una volta torno alla parola essenziale diversità qualche considerazione rispetto a quelle parole di questi due pontefici se da una parte tutti e due sviluppano la teologia di Lomengenzi Mondici che fonda sul sacerdozio di Cristo ogni ministero tuttavia non manca il riferimento forse una sottolineatura a mio avviso eccessiva di una distinzione di una diversità di una differenziazione troviamo questi termini e se in fondo questa differenziazione la potremmo anche ricondurre alla teologia paolina del corpo delle membre all'articolazione e alla diversa strutturazione della chiesa però attenzione tutto questo ha fatto sì che si sia nel tempo accentuata la separazione all'interno di quella che dovrebbe essere considerata l'unica categoria dei battezzati e questo è avvenuto soprattutto nell'ambito liturgico la soggettualità liturgica della chiesa di cui tanto parla Sacro Santum Concilium lancio questa domanda possiamo considerarla realmente efficacemente concretamente realizzata nelle nostre assemblee liturgiche e andiamo a Papa Francesco stesso pontefice ultimo che cito per avviarmi alle conclusioni Papa Francesco sulla scia del concilio legge un fenomeno interessante faccio riferimento a Benzoli Gaudium ma anche a una lettera che Papa Francesco scrive al presidente della Pontificio Commissione per l'America Latina in cui il Papa Francesco denuncia una clericalizzazione dei laici cioè il risultato di questa divisione è una dice Papa Francesco una clericalizzazione dei laici da cui scaturisce una visione del laico impegnato come quasi come se fosse una forma diminuita di ministro ordinato così come se fosse un'emulazione del ministro ordinato una scimmiottatura del ministro ordinato ecco questo è il risultato questo è il terzo pontefice che fa un buon bilancio e denuncia una situazione d'altra parte devo dirvi che personalmente non sono stupita da questo risultato perché se andiamo a guardare il codice di diritto canonico non me ne voglia Monsignor Mogavero dove si spiega cosa sono i chierici e cosa sono i laici si definisce bene cosa sono i chierici mentre poi si conclude dicendo ceteri sunt laici cioè tutto ciò che ero le chierico sono i laici su questo argomento ci siamo già confrontati tantissimi anni fa con l'ospito una volta della diocesi di Mazzara nel 2008 credo una settimana liturgica nazionale sarebbe interessante anche svilupparlo questo e allora passo al terzo punto cioè la mia conclusione la mia conclusione che è anche una provocazione ma allora che cosa sono i laici se ceteri sunt laici chi sono i laici che cosa sono i laici quali possono essere i ministeri e loro riservati cioè sono tante le domande la provocazione che vogliamo lanciare è quella di puntare invece piuttosto che parlare di differenziazione quando parliamo di ministeri dobbiamo veramente differenziare tra uomini e donne è davvero necessario questa differenziazione nella vita della Chiesa cosa che abbiamo fino ad ora fatto non potremmo piuttosto puntare su ciò che unisce e allora se dobbiamo puntare su ciò che unisce la categoria di sacerdozio battesimale diventa la chiave interpretativa del fondamento dell'unità della Chiesa mi piace citare il pensiero di Andrea Grillo un collega liturgista che pochi anni fa credo non fosse il 2018 durante un convegno pubblicamente propose il superamento della nozione di laico in favore della nozione di battezzato è una proposta non da poco scusate non da poco che sicuramente trova il suo fondamento al concilio vaticano secondo però parlare della nozione di battezzato come superamento della nozione di laico significa che essere uomo o essere donna è indifferente rispetto alla traduzione di un carisma in ministero attenti perché sto dicendo sto facendo un'affermazione molto pesante se il fondamento del ministero è il battesimo allora bisogna prescindere e allora il fondamento del ministero non risiede nella maicità non risiede nell'essere uomo non risiede nell'essere donna mi piace ricordare anche Cettina Militello la processa Militello le cui pubblicazioni non possiamo certere ancora adesso quando insiste sulla dimensione profetica del cristiano post-affondamento delle ministerialità allora il messaggio con cui concludo il messaggio che vorrei passasse è quello che la Chiesa sulla lunga scia post-conciliare debba ancora tanto impegnarsi tanto in vista della realizzazione della piena soggettualità liturgica del popolo di Dio perché da liturgista dico che qui c'è un problema di soggettualità liturgica del popolo popolo di cui facciamo parte tutti leici e chierici attenzione il superamento di qualunque forma di divisione è laddove uguaglianza non significhi laicizzazione del chierico o clericalizzazione del laico perché attenzione nel post-concilio c'è stato anche questo per allollare le distanze a volte anche un anacquare l'identità del ministero ordinato non parliamo né di clericalizzazione del laico né di laicizzazione del chierico e allora mentre siamo grati a Papa Francesco per aver ripreso il cammino della riforma liturgica per aver stato spazio a tante donne nella vita della Chiesa prima la professoressa Oliveri ricordava che sono consultore alla congregazione del culto divino abbiamo aspettato 21 secoli perché una donna entrasse in una congregazione vaticana scusatemi per parentesi non c'è il bagno delle donne in congregazione chiuso la parentesi significherà qualcosa dico mentre siamo grati a Papa Francesco io auspico il superamento di paradigmi che non siano conformi al concilio ma che ancora oggi resistono agli ambienti ecclesiali paradigmi anticonciliari che ci portano ad inquadrare come una questione di genere quella che a mio avviso invece è una questione ecclesiologica è una questione teologica è una questione liturgica e mi fermo qui spero poi di ulteriori incontri e di ulteriori riflessioni perché penso che di materiale su cui riflettere ne abbiamo tanto adesso la testimonianza della giornalista Alessandra Turrisi giornalista palermitana che lavora per i quotidiani avvenire il giornale di Sicilia e collabora anche con i periodici che dalla metà degli anni 90 segue le cronache siciliane e in particolare con particolare attenzione agli aspetti sociali ed ecclesiali grazie buon pomeriggio tutto quello che hai detto Nicole fino a settembre dell'anno scorso perché continuando ovviamente a svolgere il mio ruolo di comunicatrice di giornalista dalla fine dello scorso anno adesso lavoro all'ufficio stampa della regione siciliana perché ho vinto il concorso l'anno scorso lì e quindi ho dovuto radicalmente cambiare il mio tipo di non solo di luogo di lavoro ma anche un po' la tipologia del lavoro che faccio e però hai detto bene per tantissimi anni ho lavorato proprio per i quotidiani e anche per alcuni periodici conosco moltissime persone che sono collegate qui perché comunque la mia attività si è svolta devo dire è nata all'interno della chiesa di Palermo e si è svolta poi nei decenni proprio lì comincio col dire che il discorso che affrontiamo oggi non è avulso dalla questione del rapporto uomo-donna molto forte molto direi anche problematico che esiste nella società di oggi perché la chiesa è parte di questa realtà come dicevo prima io vivo attivamente nella chiesa diciamo da sempre dal momento del mio battesimo e dico un po' provocatoriamente ci sono rimasta nonostante tutto nonostante tutto devo dire può essere sintetizzato con le esperienze a volte contraddittorie di cui mi sono trovata spettatrice proprio a ragione del mio lavoro del mio mestiere il lavoro del giornalista è prima di tutto un lavoro di osservazione di approfondimento e poi chiaramente di divulgazione e devo dire è stato per me molto bello interessante formativo e arricchente poterlo svolgere anche all'interno della chiesa non solo ma una parte importante della mia vita lavorativa si è svolta proprio in questo settore io faccio questo lavoro da 26 anni ora e come vi dicevo ho cominciato proprio nell'ambiente ecclesiale i miei primi articoli sono stati pubblicati da Novica pensate un po' ricorderete questo periodico della chiesa di Palermo pensato voluto gestito innovato da Don Vincenzo Noto che tutti noi abbiamo conosciuto con cui tante volte ci siamo anche scontrati perché era un sacerdote e un giornalista abbastanza forte anche di carattere ma è stata un'esperienza molto formativa e dopo ho cominciato a lavorare per realtà laiche come appunto può essere il giornale di Sicilia come possono essere altri periodici ma gran parte di questa mia esperienza dicevo si è svolta nell'ambito ecclesiale perché io sono stata collaboratrice del quotidiano Avvenire per vent'anni e poco prima ho fatto anche un'esperienza sempre di collaborazione con l'osservatore romano ma stiamo parlando della fine degli anni il 90 quindi altra altro management altro altro ambiente e altra mentalità infatti la prima la prima confessione che devo fare è proprio questa cioè mio malgrado devo dire che le situazioni maggiormente complicate posso dire anche un po' umilianti in alcuni casi le ho vissute proprio nei miei due anni di collaborazione con il quotidiano della Santa Sede direte voi ma come è possibile è possibile perché alcuni giornalisti che avevano anche dei ruoli direttivi avevano degli atteggiamenti spiccatamente svalutativi nei confronti delle capacità di una giovane donna del sud che stava cominciando a lavorare per loro di contro ce n'erano degli altri anche religiosi che invece avevano una capacità di accoglienza straordinaria e anche formativa nel senso che tanti suggerimenti tanti consigli tanti modi di vedere anche la realtà ecclesiale che loro mi hanno in qualche modo fornito mi sono serviti anche per il per il futuro e pensate io allora avevo 24 anni è un'enorme fiducia nel mondo in evoluzione e anche nella chiesa di cui mi sono sempre sentita pienamente parte molto più di recente qualche anno fa un'altra esperienza un po' particolare l'ho avuta con un sacerdote che ricopriva un incarico anche importante in Vaticano che incontrandomi non mi conosceva in un'occasione pubblica a Palermo davanti ad altri mi disse provocatoriamente quasi volendo fare una battuta spero che almeno lei sappia scrivere in italiano ora voi direte non sempre il fatto che fosse né un chierico né una persona dei vertici diciamo vaticani si tratta semplicemente di maleducazione però io sono convinta che anzi ne sono certa che se ci fosse stato un giornalista uomo davanti a lui non si sarebbe permesso di dire una cosa del genere io ovviamente ho risposto a tono ho girato le spalle e me ne sono andata vi racconto questo perché diciamo è un aspetto è un aspetto interessante forse poco c'entra con i ministeri con i ruoli all'interno della liturgia eccetera ma c'entra con una mentalità che è ancora dura da scardinare vi dicevo io ho continuato a lavorare appunto soprattutto poi con avvenire e l'esperienza è stata radicalmente diversa dal punto di vista professionale sicuramente ma mi ha permesso questo di entrare a contatto con tantissimi vescovi per esempio con tantissime diocesi e ho visto delle situazioni a volte radicalmente diverse ci sono stati per esempio casi in cui mi sono sentita quasi una intrusa non solo giornalista che quindi già è da guardare con sospetto ma anche donna altri casi invece dove dei vescovi tanti di più la maggior parte mi hanno dimostrato di apprezzare il mio modo di comunicare e anche di interpretare la mia professione non soltanto quando li ho interpellati per delle interviste o per raccontare dinamiche storie e notizie che si svolgevano nei loro territori ma quando mi hanno chiesto di fornire un contributo concreto intelligente professionale magari nella promozione di attività pastorali a cui tenevano particolarmente guardandomi come donna esperta di comunicazione ecco questo mi ha aperto gli occhi anche su un cambiamento un'evoluzione importante che c'è in atto stessa cosa per esempio è successa in seminario il seminario Arcilio Escovile è notoriamente un ambiente per soli uomini eppure come un dialogo proficuo con i vertici del seminario mi è capitato più volte di incontrare i seminaristi negli anni passati per parlare di comunicazione di informazione di rapporto con i media perché più volte nella mia ora lo posso dire abbastanza lunga esperienza di giornalista mi sono accorta come moltissimi sacerdoti e non è un problema di età e di generazione è un problema di formazione e di cultura nella quale sono cresciuti si sono formati e vivano con difficoltà la pressione mediatica con una certa impreparazione anche il modo di rapportarsi con il mondo della informazione e quindi quindi mi è sembrato visto il mio ruolo e in qualche modo anche un po' la mia competenza è importante trasferire a questi a questi sacerdoti alcune dritte alcune indicazioni importanti per poter vivere anche meglio pastoralmente nei propri territori nelle proprie comunità perché a tutti a tutti i sacerdoti capita prima o poi di celebrare un funerale di una persona morta tragicamente in un incidente o di vivere una situazione difficile anche legata alla cronaca e bisogna anche sapersi rapportare a queste cose io ritengo che in nessun ambito né tantomeno in quello ecclesiale è opportuno per le donne essere una brutta copia degli uomini anziché valorizzare la peculiarità semmai femminile che c'è si rischierebbe poco fa sia Valeria Trapani che Monsignor Mogavera parlavano del rischio di clericalizzazione del laico io parlo anche di un rischio di mascolinizzazione della donna un po' una sorta di volontà di macismo perché così veniamo ritenute più autorevoli questo è un discorso che è assolutamente trasversale secondo me in ogni ambito non credo molto posso dire una cosa forse poco popolare nelle quote rosa io credo di più nella parità di partecipazione e di opportunità nella vita pubblica questo sì ma i recinti degli indiani non sono mai utili possono essere propedeutici forse all'introduzione della vera parità di opportunità e di partecipazione però devono essere propedeutici il fine ultimo deve essere quello un mio vecchio caposervizio del giornale regionale molto misogino ma dotato di acume di giudizio amava ripetere una battuta diceva quando una donna vale quindi quando quando una donna vale vale due uomini e ovviamente questa battuta strappava anche un po' un sorriso in tutti ma in qualche modo conteneva un fondo di verità cioè la donna forse fa paura in alcune in alcuni contesti in alcune situazioni mi è capitato spesso di sentire ripetere a uomini delle istituzioni che c'è bisogno di donne valide non ho mai sentito ripetere agli stessi personaggi c'è bisogno di avere uomini validi mai 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 lo posso sottoscrivere questo questo un po' per raccontarvi la mia esperienza da cui da cui partiamo io ho molta fiducia nelle relazioni comunicative altrimenti non farei il mestiere che faccio però per generare fiducia sono necessarie alcune virtù alcune situazioni da cui non si può derogare penso alla sincerità penso alla franchezza penso all'affidabilità alla credibilità perché si ritiene che l'altro parli nella verità o nella cosa più vicina che ci può essere alla verità se la verità è tanto dibattuta e controversa tante volte possiamo vogliamo parlare di parresia un termine che è molto caro al mondo al mondo della della chiesa al mondo dei primi cristiani ecco forse il complimento più bello che mi sono sentita rivolgere da una persona in relazione al mio modo di parlare con gli altri e anche autorevoli e in situazioni delicate è questa mi piace il tuo modo di dire le cose tu parli con parresia questa cosa mi ha mi ha fatto riflettere molto forse è il modo diretto franco con cui si possono dire appunto delle verità ma presuppone anche un pizzico di coraggio era il coraggio dei primi cristiani che annunciavano il vangelo lo dice anche papa francesco lo dice papa francesco in un'omelia a santa marta proprio un anno fa parlando appunto del libro degli atti degli apostoli ci vuole franchezza ci vuole ci vuole coraggio a volte a rischio anche della incolumità fisica della propria reputazione anche compromettendosi in prima persona a volte anche non volendosi preoccupare delle conseguenze che ci possono essere perché comunque questo può risultare scomodo e questa cosa mi ha fatto riflettere anche per il modo in cui io svolgo la mia professione in qualunque ambiente io lo svolga la svolga a che punto siamo a che punto siamo nella chiesa papa francesco ha chiesto sempre che una donna sia vice della sala stampa vaticana credo che sia la seconda adesso questa christian murray è un segno sì un segno nell'esortazione apostolica evangelii gaudium al 103 dice la chiesa riconosce l'indistensabile rapporto della donna nella società con una sensibilità un'intuizione e certe capacità peculiari che sono solitamente più proprie delle donne che degli uomini ad esempio la speciale attenzione femminile verso gli altri ma c'è ancora bisogno di allargare gli spazi per una presenza femminile più incisiva nella chiesa perché il genio femminile è necessario in tutte le espressioni della vita sociale per tale motivo si deve garantire la presenza delle donne anche nell'ambito lavorativo e nei diversi luoghi dove vengono prese le decisioni importanti tanto nella chiesa come nelle strutture sociali e questa è una un'affermazione a mio avviso molto importante che viene affermata detta ma poi deve incardinarsi deve tradursi nella realtà un altro accenno sull'importanza del ruolo femminile c'è nell'esortazione apostolica post-sinodale appunto del sinodo dei giovani da Christus Vivit dove viene sottolineato l'importanza di preparare consacrati e laici uomini e donne che siano qualificati per l'accompagnamento dei giovani per esempio e poi nella ovviamente nelle opinioni che erano state espresse durante il sinodo alcune giovani donne percepiscono una mancanza di figure di riferimento femminile all'interno della chiesa alla quale anch'esse desiderano donare i talenti intellettuali e professionali ecco c'è un dibattito c'è un dibattito in corso molto molto forte del quale il motu proprio è parte io ovviamente non mi addentro su quello perché in quello perché non ho la competenza e l'avete fatto voi assolutamente bene e in maniera molto molto stimolante concludo però dicendo che c'è si avverte l'esigenza forte che qualcosa cambi quelli messi in atto dalla chiesa e da papa francesco sono appunto segnali importanti ma se non si configurano nella rivoluzione strutturale del modello culturale della chiesa che abbiamo ereditato dal passato possono rischiare di diventare occasionali visto che siamo in primavera a rondini che non fanno primavera davvero che ci fanno in qualche modo desiderare che qualcosa cambi radicalmente ma la bella stagione non arriva e lo dicevo poco fa il rapporto uomo-donna è una questione forte nella società contemporanea la questione del genere l'incremento esponenziale dei femminicidi espressione molto brutta ma per intenderci lo dimostrano e invece di subire e rincorrere i cambiamenti culturali forse come chiesa dovremmo essere protagonisti di questi cambiamenti essere possiamo dire agenti di cultura agenti di soluzioni agenti di risposte profetiche in un contesto che ha bisogno più che mai forse anche più del passato di punti di riferimento autorevoli e lasciatemelo dire è un termine che mi piace molto punti di riferimento credibili dove l'affermazione è soltanto propedeutico alla realizzazione alla messa in pratica di quel principio grazie ad Alessandra per la sua testimonianza ci avviamo alle conclusioni la parola al nostro direttore Vito Impellizzeri e poi appunto i nostri saluti finali io intervengo soltanto per dire grazie ai relatori al Monsignor Domenico Mogavro vescovo della Diocesi di Mazzola del Vallo e il mio vescovo che ci ha posto la questione nel giusto orizzonte immediatamente ermeneutico è quello del rapporto tra diritto teologia e antropologia e ringrazio la professoressa Trapani perché l'espressione della nostra facoltà teologica SSR ha mostrato il cambio di paradigma che è quello battesimale che sta molto a cuore alla proposta intera del nostro istituto e poi ringrazio la dottoressa Turrisi Alessandra che ha voluto dare volto e nome e narrazione a come i processi di cambiamento siano necessariamente lenti ma anche profondamente culturali lei chiede una sorta di rivoluzione del paradigma culturale all'interno della chiesa che deve farsi in qualche modo disegno e volto di una vorrei dire proposta della donna in maniera forte mi viene da sorridere perché forse proprio alle donne che dobbiamo la prima parola di risurrezione nella chiesa e quindi si tratta di ricominciare da dove abbiamo cominciato insieme al maestro al risorto io nel dire due notizie la prima non pensavo che questo tema avesse così tanto successo siamo ormai entrati in questa espressione della visibilità della fatica della ricerca della facoltà di molti di quanti studi di quanti si impegnano penso che fra pochi giorni ci sarà un altro seminario web su Italo Calvino organizzato dai nostri prof di filosofia della facoltà dove io spero partecipare in tanti e quindi stiamo pensando se è il caso di cambiare canale per avere più posti proveniamo da un momento di riflessione forte del seminario biblico cioè di un convegno biblico che abbiamo vissuto dove anche lì abbiamo avuto più visite di quelle che aspettavamo lo stesso con un seminario tra letteratura e teologia su Leonardo Sciascia perché è vero che il 700 anni di Dante ma è anche il centenario di Sciascia allora come SSR io ho chiesto di occuparsi di occuparci di Sciascia e della povertà come rivelazione come narrazione di rivelazione stiamo imparando ad abitare questa nuova realtà in cui la facoltà come dire partecipa e rende sperimentabile anche la fatica dello studio e della ricerca del dibattito per rispondere in maniera molto forte al compito pubblico della teologia perché la teologia ha un compito pubblico che è quello di inserirsi nei dibattiti culturali sociali probabilmente religiosi ai filosofici politici anche per dare il contributo della fede la capacità diceva Aldonaro bisogna tornare a pensare questo è il compito anche pubblico della teologia e Papa Francesco nella Fratelli Tutti dice bisogna pensare perché pensare è un dovere ed è una responsabilità scusate nella laudato sia il numero 83 non nella Fratelli Tutti detto questo tutto quello che abbiamo vissuto oggi è stato registrato adesso abbiamo per la prima volta anche uno staff tecnico di comunicazione all'interno della segreteria in facoltà sarà montato e sarà reso disponibile io con alcuni già su whatsapp ho detto non vi preoccupate perché renderemo disponibile il link sulla pagina di facoltà quindi io faccio un ultimo appello vale la pena di visitare il sito della facoltà per quanto possa sembrare un sito per addetti ai lavori non lo è perché trovate sempre le nostre proposte i nostri seminari accessibili e tutta la fatica della nostra ricerca oltre alle nostre pubblicazioni e mi piace dire che una scelta immediata come quella che c'è stata dopo il seminario su Sciascia anche questa volta si è verificata la scelta immediata noi continueremo ad occuparci di questo tema e quindi condivido che subito dopo questo incontro per favore i relatori insieme al presida a me e a Nicole ci fermiamo per fare il punto una restituzione dell'esperienza e anche per scegliere come proseguire su questo tema profondamente delicato ma come dire non nell'emergenza tipo i migranti ma nell'urgenza del regno di Dio perché credo che il cominciamento del regno di Dio nel terzo millennio abbia forse in maniera bellina anche i passi delle donne quindi lascio la parola al preside e poi così a Nicole Io devo anzitutto scusarmi con la dottoressa Turrisi perché all'inizio ho dimenticato mi perdoni mi ha proprio sfuggito non perché non l'avessi presente ma mi sono lasciato prendere un po' la mano per non voler dire troppo e quindi le chiedo scusa la saluto e la ringrazio cordialmente grazie per la bella testimonianza che ci ha offerto e la condivisione della sua esperienza qui come ringrazio tutti i relatori il direttore per l'organizzazione di questa bella giornata e tutti i partecipanti sono anch'io molto contento per il grande interesse che viene riservato alle iniziative della facoltà al di fuori della facoltà stessa dunque non si lavora soltanto al proprio interno all'interno del proprio bellissimo chiostro non è cicero o brodomosua ma si lavora appunto con una capacità di suscitare interesse attenzione presso tutti gli ambienti e di questo sono molto contento il resto lo ha già detto il direttore dunque non lo ripeto grazie ancora a tutti la professoressa Oliveri che ha moderato Monsignor Mogado la professoressa Trapani la dottoressa Torrisi e naturalmente il direttore che ha organizzato tutto questo non ho davvero niente altro da aggiungere ancora grazie a tutti per questa bella serata e per la vostra partecipazione io mi associo ai ringraziamenti del preside vi ringrazio per averci seguito così fino alla fine con grande interesse e vi aspettiamo alle prossime iniziative buona serata arrivederci buona serata a tutti grazie grazie